Bene ragazzi, siamo tornati qui con un nuovissimo video, oggi stiamo qua con Mario82, il suon game di nome pro, Gioele, di Gioele. Oh ragazzi, dove state voi? Io non vi vedo. Io sono il tetto. Ma come fate io? Io non mi faccio salire il tetto. Eppure le gambe astuto. Salendo. Rada da me ci... Albi ma te dove sei? Sul tetto vicino alla bandiera, sulla bandiera praticamente, sta volando. Eccomi, eccomi, Rui, Rui. Albi vieni. Vieni, sono qui. Ok, ciao. Albi, quest'orsa sono io. Ecco, fermo, fermo, fermo. Sono io, sono io. Ecco, qua dovrebbe uscire l'arma di vita, no? Eh sì. Ho sbaglio. Eh, ecco, oh, io sto sentendo, tipo, come si stanno facciando. Io ti vado qua. Amico, fai il loser, di prima. Io sto scendendo sotto. Oh, raga, sotto non c'è più la statua. Amico, fai loser. Raga, sotto non c'è più la statua. È vero. È vero, non c'è più la statua. Comunque io sto... È vero, non c'è più la statua. È vero, non c'è più la statua. Ah, aprendo la cosa così esce il loser. L'arma di Milo. Eccolo. No, si sono buttati tutti, gliel'ho detto proprio, ragazzi. Non fatelo, non buttateli. No, io non mi butto. Ok, poi come risalite, ragazzi? Non lo so, eh. Voi siete proprio pazzi. Stanno rompendo. Stanno rompendo. Io però posso scendere. Ma comunque secondi, quattro, tre, tre, due, due, uno... È congiato, bravo. È congiato, è congiato. È congiato. Tutto a zero. Qua c'è una cosa gialla. Ah, è mio pinto. Da dove si parte? No, per qui. Devi vedere, bai. Guardate l'intorno in cielo, perché in cielo c'è una cosa. Tutto a zero, tutto a zero, raga. Dovrebbe succedere qualcosa. A volte dicendo a te. Oh, io mi aspetto di tutta. Oh, mi sto sentendo palpo. A poco. Io pure, mi mette anzi a questa cosa. Raga, 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 raga. Guardate sotto. Raga, guardate sotto. Oh, i goti di vita. Che cosa fa? Guardate dentro l'altra. Che cosa fa? Ci sono per te. Io sono, è fighissimo col jackpac, comunque. Cioè, meno male che l'ho preso. Io sto in altissimo, se mi vedi, gelè. Sto volando, e mamma mia, ragazzi. Raga, è bellissimo. È fighissimo, attenzione, ragazzi. No, scarico il jackpac. Così, ecco, è questo. È spuntato una cosa dell'acqua, raga. Sono spuntato così intorno alla macchina. Cosa? 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 Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, che succede? Perché io sono sott'acqua. Ragazzi, io sono sul doomsday. Anche io sono sul doomsday. Oh, ecco, è nata l'agenzia, ragazzi. È nata l'agenzia. Non mi fa saltare, ragazzi. Ragazzi, qua c'è un problema. Ragazzi, anche a me mi fa saltare. Eh, non è un bug, allora. È proprio fatto apposta. Guardate l'agenzia. È una figata pazzesca. Io non la posso vedere perché non mi fa andare avanti. Ragazzi, vi buttate qua sotto morire. Non mi fa andare avanti. Oh, mio Dio. Ora dovrebbe arrivare mi ascolo. Ti puoi saltare? Cioè, non hai detto, ti volo. Ragazzi, ma a me mi sta facendo. flutuare. Eppure a me. Oh, guardate che fuggata. Tentate fuggata. Guardate in cielo, guardate in cielo. Guardate in cielo. Guardate in cielo, guardate in cielo. Oh, non mi fa smettere. Ragazzi, io lo sto toccando i gioiti. Ragazzi, c'è un problema. Ragazzi, un problema non mi fa scendere. Cioè, neanche a me. Vabbè, aspetta, eh. Neanche a me. Vabbè, che io salvo qualche uomo. Sono in cielo più cielo del cielo. C'è tipo una bolla. Suborgo è tutto. Ragazzi. 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 Ci banneranno dopo questa cosa. Stiamo facendo il video. Ragazzi, cosa è successo? Oh, mio Dio. Agenzia, io sono. Che sono in una franza. Guardate la genzia di dentro. Ah, ti puoi camminare. È la genzia di dentro. Figo, ti puoi camminare. Oh, mio Dio. Brava. Oh, eccoci, eccoci. Sono tornato. Io sono tornato in cielo. E io pure. Ragà. Ragà. Cioè, no, davvero è fighissimo. È la cosa più bella del mondo. È fighissimo. È l'evento più bello del mondo. È l'evento più bello del mondo. Io sono atterrato. Io sono atterrato sopra i Disney. È l'evento più bello del sport di Fortnite, ragazzi. Ragà, la tempesta, la tempesta. Ragà, è la cosa più bella del mondo. È l'evento più figo del mondo. Più figo del mondo. Ragà. Oh, mio Dio. Oh, guardate, c'è un castoro. Dove? Nel Tuesday, l'ultima parte, c'è il castoro. Oh, mio Dio. In inglese si dice device. Comunque, la nera, gente, è con la nera. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ragà, di nuovo, ragà, di nuovo. Stiamo andando di nuovo in alto. Sto vittuando. Sono stato dentro il Dioomslay per un secondo. Regà. Ragà, è l'evento più bello del mondo. Regà, scrivetemi nei commenti che domani c'è l'aggiornamento o il giorno prima dell'aggiornamento? Nei commenti. Ma che cavolo. Ma voi state volando. Ma non dovrebbe allagarsi tutta la mappa? Oh, mio Dio. Sono caduto di sotto io. È finito. Oh, ragazzi. Tu sei pazzo, è finito. Ragà. È finito. È un arcobaleno enorme. È finito. C'è ancora le armi, io. È finito. È finito. Già. Mi ha tenuto questa cosa. Ah, no, non è finito. No, non è finito. Non è finito, non è finito. È arrivato un ascolo. Mi sa che sta arrivando un ascolo. Sì, 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 sì. La scola. Ragazza, va. Mi ha scolino. Oì, ci succede. Oddio, oddio. Oddio. Non c'è niente. Al telefono. Shhh. Janice, Janice, imposta l'attivatore di risonanza 7.2. Ora, per favore. Sì, proprio. Ragazzi, sono di nuovo in quella stanza. Devo attivare una cosa 2.0. Non è solo una tempesta. E questa cosa significa? Deve esserci una colazione con il slop. Ma non avremmo mai potuto. Vabbè. Ok, sto tornando. Sto tornando. Eh, moro. Non c'è. Ok. Sono dentro l'espa. L'agenzia è crollata. Dove ti eserla fai? ROTUNAMI! ROTUNAMI! FIGO! ROTUNAMI! ROTUNAMI! C'è sotto acqua! ROTUNAMI! Guardate in cielo, c'è uno yacht! C'è uno yacht in cielo! Sta arrivando Miascolo! Alla ventura di Miascolo! Dov'è? Stai li, li, li! Stai li, li! ROTUNAMI! No, no, no! Sono di nuovo dentro con la coda! E ha funzionato! C'era lo yacht! Quanto pensi che reggerà? Reggio, reggo! Bene, bene! Bene, bene! Sì, quanto la situazione inizia a stabilirsi sempre con nulla! Ma che è? Ma come? Ma come? Aspetta, 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 riesci a sentirmi! Zitti, ti senti tanto! Comunque vuole la skin del volto con uno smoking! Può essere una skin del prossimo passo, attenzione! Appossa! Raga, è una figata pazzesca! Regga, stiamo occupando il basso di Deadpool! No, non dirmi che la mappa è nuova! No, è la mappa nuova! E' la mappa nuova! Regga, che succede? E' la mappa nuova! Regga! E' la mappa nuova! No, è identica, è identica! Aprite la mappa, è identica! E' la mappa nuova di Fortnite! No, no, è identica, però c'è... Per il sott'acqua! No, ci sta facendo... E' sott'acqua! Figo! E' sott'acqua! Ma... Ma no! Penso che è sott'acqua, ci vai a vedere tutte le cose tipo sott'acqua, però... Ragazzi, mi sono cambiato e sto laggando! Ragazzi, io ho appena capito! La tempesta e l'acqua! La tempesta e l'acqua! Ma che sparate, però, che vuole un palle! Ragazzi, comunque a me non è che mi grazia tanto sta mappa? Ma come è? C'è no, è uguale, ragazzi! Secondo me... Ma è una figata, come non ti piace! No, ma come è gelato! Sì, è abbastanza carina! Sì, però ti hanno tolto abbastanza mappa! Pure l'aco ti hanno tolto, cavolo! No, ma non è questa la prima mappa! Anzi, no, però puoi nuotare! Puoi nuotare! Puoi nuotare! Sì, ma non è questa! Non avete capito la tempesta! C'è la seif e l'acqua, praticamente! Chiudendo il cecchino buono! Quindi ormai è finito l'evento! È finito, è finito! Che cosa combina la doma? Questa prima era l'agenzia! Sì, perché è tutto male, non ha voluto sapere una buca! Sì! Hai vero, Gioia? Ragazzi, è una cuba da bazzesca! Ma è quella seif! Comunque, raga, è stato un evento breve, breve ma intenso! Ho andato nella seif, si può nuotare! Incredibile! Ma donna, io l'ho detto, la seif è il corvo! Ma si può nuotare nella seif! Raga, ma se guardate a terra, è come se siamo sott'acqua! Raga, è una mappa, non dico bellissima! Però, è super strafichissima! Comunque, raga, è abbastanza carina! No, per me no! C'è uguale! È abbastanza carina! Chi è abbastanza carina? È una figata pazzesca! Da quanto tempo è che c'è questa mappa? Da quanto tempo è che c'è questa mappa? Hai sei! Raga, sono andato fuori seif! Ti ho detto che ti puoi nuotare! Ti fiammi tu, non vai! Raga, fuori seif! Sì! No, ho più c'è il shadow! Io l'avevo detto che la seif era l'acqua! Io l'avevo detto che la seif era l'acqua! Tu aveva pure detto! È rotto perché la seif era l'acqua! È rotto perché la seif! Grazie, don't lette! Perché è la tempesta, forse, no? Perché? Se si atterra qui sopra io! Oh, mio! Io vado sotto l'agentì! Raga, ma ora! Mi stai dicendo che c'è l'aggiornamento fra pochissimo? Domani! Luca, sei zitto! Domani c'è l'aggiornamento, capisci? Non è, usa, per me la... Domani c'è l'aggiornamento! Sì! Ma mi sa che ci sarà un nuovo aggiornamento, mi sa! Perché è pochissimo di notte! Domani esce l'aggiornamento! Più fra quanto, secondo voi? Domani esce l'aggiornamento! No, vabbè! No, vabbè! Una figata, una figata! Ma io voglio andare in altissimo! E' un pochettino! Sì! Raga! Raga! Comunque! Le onde si stanno restringendo, eh! E perché... Ci ho detto io che era la seif! La cosa che la siif! Ma non sentivo! Raga, io sto salendo sopra le onde! E la forse è un tuo amico di fratello! Come fai? Eh no, pure io ho spesso seguendo! Cos'è la scala! Se vedi... Easy! Easy! Mi sa che è quasi impossibile salire sopra le onde! Raga, sto per... No, se superi le onde non ti fa più buildare! Fermati ti puoi scato! Albi stregadendo! Ho capito perché non mi faceva più buildare! Perché qualche scemo mi ha buttato la scala! Ma non ti vedi il botto! Che vuol dire se stanno restringendo? Stanno restringendo le onde! Ma se ti vuoi, io no! E tu c'è... Si può nuotare? C'è tipo qua l'ago! Di ponte di lago! Eh, qua dentro! Siamo sott'acqua! E se noi andiamo dentro l'acqua che succede? Noi! Sì, siamo tutti sott'acqua! Comunque buono! Anche si sono assusti! Raga, comunque... Raga, comunque secondo me... Sono morti tutti i boss, eh! E no, ma Miasco c'entrava qualcosa una volta! C'era Miasco, lo io non l'ho visto, raga! No, io ho visto solo il suo yacht! Cioè, di Dead Bull! Eh, ma lo yacht rese di Red Bull! Ora, però... Lo so, ma io ho visto Miasco, lo sopra lo yacht! Come? Ho visto Miasco, lo sopra lo yacht! Sì, ma che Cameron! Vittoria! Vabbè! Vittoria! Ho fatto vittoria reale! Ma pure noi! Ciao, Giole! Torniamo in lobby, ragazzi! Eh no, aspetta! È finito l'evento! Ragazzi! È finito l'evento, ragazzi! È stato l'evento più bello della mia vita! E ora ti fa ritorno al lobby! Non è successo niente dopo! Cioè, è rispito fine evento! È stato l'evento bello del mondo intero! Comunque, ciao ragazzi! Ci vediamo in un nuovissimo video!